Ciao a tutti ragazzi e bentornate sul mio canale eccomi finalmente tornata con lo spacchettamento di brochet avevo saltato un po' di album da farvi vedere ma io qualche ordine l'ho fatto e quindi niente, iniziamo subito scusate la luce ma tanto non vi devo fare vedere su watch allora il pacco è qui e questo qui allora è grande ma perché ci sono dei set di natale ma l'ordine non è stato molto grande allora iniziamo proprio subito da questi allora mi sono stati ordinati dei set di natale che sono questi già compreti così nelle bustine e sono allora questa è la linea alla mera caramellata sono bagno doccia e crema corpo la crema corpo è tutta scintillante a 9,95€ questi sono da 400ml e sono 9,95€ già compresi di bustina che se li volete prendere singolarmente se non mi sbaglio la bustina è sulle 2€ e questi sono sui 5€ quindi c'è la convenienza basta basta poi piegarla piegarla e bloccarla io adesso queste non le chiuderò perché sono della mia cliente e quindi viene già un'idea regalo un'idea regalo molto carina quindi questo era 9,95€ poi mi è stato ordinato un set alla arancia e cannella arancia candida e cannella anche qui bagno schiuma crema corpo e spugnetta e bustina 9,95€ quindi anche questo ottimo prezzo è molto carino come idea regalo il sole va e viene ok poi me ne è stato ordinato un altro all'arancia e mandorla sempre uguale crema corpo bagno schiuma spugna e bustina questi invece sono da 250ml e poi l'ultimo mi è stato ordinato vaniglia speziata ok il sole è andato completamente via comunque bagno doccia crema corpo spugnetta e scatola pacchettino ecco infine sempre dal catalogo di natale mi è stato ordinato questo cesto praticamente di latta non lo apro perché lo lascio così sistemato per la mia cliente con questo è da 14,95€ la fragranza è arancia candida e cannella e ha dentro un lo appoggio perché se no mi cade tutto un gel doccia esfoliante vabbè tutta della stessa fragranza un gel mani crema corpo glitterata e crema mani e quindi questo tutto il cesto viene 14,95€ quindi dal catalogo di natale basta rivedo l'ordine è stato davvero piccolo poi mi è stato ordinato questo gel detergente purificante che è questo qui della linea Pure System sono 125ml io questo l'ho utilizzato anche se non ho la pelle impura però mi piace tantissimo poi mi è stato ordinato questo esfoliante esfoliante gommage ai noccioli dal bicocca come sapete io questo lo utilizzo sempre lo amo e lo adoro 150ml ah dimenticavo il prezzo di questo se non mi sbaglio è sui 5,95€ e questo sui 6,95€ se non erro poi mi sono stati ordinati due gel mani c'è gel mani alla vena che sono questi qui ora me ne faccio vedere uno coprendo la luce che non so cosa si vede ok e sono questi da 300ml per 4,95€ ciascuno poi mi sono stati ordinati due pacchi di magnesio questi erano in offerta se non mi sbaglio a 9,95€ ciascuno e sono questi qui sono davvero molto validi non mi guardate lo smolto che ce l'ho sbeccato lo devo cambiare sono davvero molto validi e che stavo dicendo mi sono dimenticata comunque li utilizza sempre mia madre quindi infatti questi sono per lei e infine un diodorantino della linea al melograno cioè voi lo state vedendo il sole cosa fa che va e viene comunque un diodorante questi sono zero salita alluminio e vabbè senza parabeni cioè sono completamente dovrebbero avere un inci naturale e infine come makeup mi è stato ordinato questo eyeliner questo qui l'eyeliner nero col pennellino questo lo sto utilizzando io adesso ed era a 9,95€ e poi vabbè c'era dentro la mia fattura un catalogo di Natale un album 14 è un tra di noi basta si basta e niente ragazzi questo è stato uno spacchettamento velocissimo di questo album numero 13 ripeto non era molto grande mi hanno ordinato davvero pochissime cose cioè a parte quei 4 set di Natale e niente io vi ringrazio per aver guardato il video vi mando un bacio grandissimo e noi come sempre se vi faccio ci vediamo al prossimo video ciao ciao